Scrittore, regista, autore teatrale, televisivo, sceneggiatore, saggista, tante definizioni per quello che in una sola parola è stato un grande intellettuale, con la sua ironia tagliente e le sue sversate al mondo politico. Con Andrea Camilleri, morto a 93 anni all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un mese di ricovero, se ne va uno dei più importanti esponenti della cultura siciliana e non solo del Novecento. Sono dei primi anni Ottanta i racconti che lo renderanno celebre in cui compare Vigata, trasposizione letteraria del suo paese natale e che diverrà poco dopo l'ambientazione delle avventure del suo più importante personaggio, il commissario Montalbano. Il poliziotto letterario più amato di sempre nasce nel 1994 e la sua prima avventura si intitola La forma dell'acqua. La fortunata serie di libri gialli viene amplificata nel 1998 da una riuscitissima fiction televisiva che consacra Luca Zingaretti nei panni del commissario Montalbano. Camilleri diviene così vero e proprio campione di vendite e traduzioni in giro per il mondo. I suoi romanzi ad oggi hanno venduto oltre 10 milioni di copie venendo tradotti in almeno 120 lingue. Si socia all'omaggio di Fiorello che con Camilleri condivideva le radici siciliane in un video esilarante in cui lo showman e l'ex spalla Baldini inseguono il maestro. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una progressiva cecità che però non ha impedito al maestro di continuare la sua prolifica carriera letteraria. Purtroppo Fazio, sento, non ho bisogno di vedere in faccia chi pronuncia certe parole. Proprio in questo momento è una fortuna essere ciechi. Nella nota finale del suo centesimo libro, L'altro capo del filo, uscito nel 2016, Camilleri dichiara che questo è un Montalbano scritto nella sopravvenuta cecità. Nel 2018 il suo monologo Conversazioni su Tiresi al Teatro Greco di Siracusa vede lo scrittore fare da attore sulla storia dell'indovino cieco. Volevo affrontarmi, proprio affrontarmi. Voi capite che stare da solo su quell'immenso marcoscenico perché l'altro greco di Siracusa, cieco. Quando è stato colpito dal malore il 17 giugno 2019, Camilleri si stava preparando a partecipare con la sua autodifesa di Caino a uno spettacolo alle terme di Caracalla. Per volontà del maestro e della famiglia i funerali saranno riservati e verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio.